Non è ancora finita, il Senato può fare il ricorso, ma annullando la delibera che riduceva i vitalizi, la commissione contenziosa di Palazzo Madama ha riacceso gli animi di molti politici di professione. Esultano circa mille ex parlamentari che hanno fatto ricorso rappresentati da Maurizio Paniz, storico esponente di Forza Italia. Masticano a Mario i Cinque Stelle, l'abolizione del vitalizio è da sempre un loro cavallo di battaglia, ma anche chi non fa più parte del movimento è molto critico. Io forse a certi politici li avrei preferiti in prima linea difendere i diritti dei cittadini, di tutti i cittadini, i diritti del lavoro e non il diritto a essere consumato da un mercato che non ha più rispetto per le persone. Quindi volevo la difesa di quei diritti, non del diritto di pochi, che guarda caso sono sempre gli stessi, a ottenere un qualcosa che gli altri non hanno. Pur non avendo fatto ricorso, uno storico esponente democristiano difende l'iniziativa. Sui vitalizi di grande demologia, i padri rostituenti quando li istituirono volevano garantire e hanno garantito per 40 anni la libertà economica dei parlamentari. Adesso hanno immaginato invece che il vitalizio era un privilegio, mentre era soltanto la prerogativa di una funzione. Ma se fosse stata una pensione finirebbe per essere un privilegio allora peggiore, perché chi dopo 10 anni, 15 anni avrebbe una pensione di 2, 2.500, di 3.000 euro alla fine della propria attività lavorativa, cioè a 65 anni, come si vede l'ignoranza produce effetti paradossi. Grazie. Grazie. Grazie.